Oggi è giunto il tempo della politica e delle istituzioni che fanno rispettare le leggi puntando al consenso democratico di tutti quei cittadini, che sono la stragrande maggioranza, che onestamente per fare una casa chiedono il permesso. È importante non lasciare solo il primo cittadino. Quindi proporrò per il sindaco adesso agli organismi tecnici una scorta alla sua persona e anche una vigilanza ai luoghi della sua vita, perché la scelta di amministrare una città non significa fare la scelta dell'eroismo e quindi la paura è un sentimento naturale e lo Stato deve intervenire per sottrarre paura a chi ce l'ha, avendo avuto il consenso del popolo per governare una terra splendida e difficile come questa. Il sindaco ha detto di essere sentito completamente abbandonato dalla politica, sulla quale invece contava e l'ha trovato accanto a sé soltanto lo Stato. Io sono molto lieto e fiero del riconoscimento del sindaco nei nostri confronti. Io sono accanto a tutti gli amministratori di qualunque colore politico, si pongano dalla parte della legge e per il porsi dalla parte della legge corrono dei rischi personali. Lo sono stato in altre zone d'Italia, lo sono qui e oggi è il tempo di una voce con un tono più alto.